Classe 1994, ungherese d'origine, Somma Novotny in questo inizio di 2015 rappresenta per l'Alto Adige il classico uomo in più. Oltre alla cura di mister Adolfo Sormani, ottima la striscia dei risultati positivi maturati, attualmente l'attaccante ventenne proveniente dal Mantova ma di proprietà del Napoli si è rivelato un vero e proprio gioiello. Debutto con i Fiocchi per lui contro l'Arezzo, contro i Toscani ha messo a segno una doppietta e un prezioso assist che ha regalato la vittoria all'FC. Poi parentesi negativa per lui con la squalifica di una giornata e quindi il ritorno al gol proprio sabato scorso nel match contro il Monza che ha consegnato di fatto tre punti d'oro al Suttirol che ora si trova quinto in classifica a un passo dai play-off e a nove punti dalla capolista Pavia. È stato decisivo soprattutto col Monza, ci fa piacere anche perché è un ragazzo che è molto generoso e ha molto margine di miglioramento. I risultati parlano chiaro, Sormani adesso ha fatto 11 partite, 24 punti, diciamo è uno score molto molto buono. Vediamo come lavora la squadra, vediamo come lavora tutto lo staff, stanno facendo veramente bene, i risultati stanno arrivando, i punti stanno arrivando e in classifica va sempre meglio. Davanti ai Biancorossi quattro squadre, Pavia, Bassano, Novare e Alessandria. Una gradutoria che premia l'Alto Adige dopo un avvio di stagione al rallentatore che ha visto dopo i risultati negativi un esonero del tecnico Claudio Rastelli. Ora i Biancorossi, galvanizzati dal recente successo, sabato torneranno alla Druso e dovranno ospitare la spigolosa Cremonese che non sta certamente brillando. Ieri infatti i ragazzi di mister Marco Giampaolo sono caduti in casa 1-0 contro il Novare.